e salviamo perché qui dovremmo fare un pickpocket Dannazione salviamo e appena l'amico si gira ce ne andiamo da questo lato non vedo tu qui peccato che è questo? chi va? non vedo nulla che è questo? è così non mi dà il tempo di andarmene dai girati forza voglio vedere quanto ci mette a girarsi ci mette poco e niente per quello vengo beccato subito adesso dico che ho più tempo cosa è questo? chi va? sembra abbastanza chiaro bene anche perchè devo restituire la chiave chi va? ok molto bene molto bene qui dentro dobbiamo recuperare un po' di bottino come al solito ok vediamo questi candelabri e questo credo sia un arazzo qualcosa del genere non mi interessa più di tanto mi interessa solo che sia prezioso e adesso torniamo da questo lato purtroppo ci tocca ma vabbè vabbè bene bene male molto male molto male ora dovremo raggiungere possibilmente il terzo piano è da un'azione che non ha salvato corso corso è tu? stop chiedendo con me male potrei fare una tanto quella porta la devo chiudere a chiave quindi devo comunque tornare però farò un'altra cosa allora un po' più semplice forse andiamo di qua saliamo qua bene arriviamo qua e saltiamo da questo lato bene così arriviamo esattamente dove vogliamo andare cioè dalla parte della biblioteca che è questa questa qua la dovremmo scassinare purtroppo vabbè intanto facciamo un salvataggio ok e attraverso la biblioteca potremo raggiungere il terzo e ultimo livello del teatro dell'opera e inoltre leggeremo il fantastico libretto dell'opera di Mr. Cripps reginald reginald and conandra la principessa della foresta la tragica storia di di devozione dimenticata tra il nostro eroe reginald la merita novizio e la sua springli conandra springli sarebbe primaverile conandra essere della foresta e regina degli alberi libretto e musica di Ian Cripps atto 1 ai margini della foresta e reginald dice sono stato mandato a tagliare il legno lui canta sono un semplice novizio mandato qui per portare legno dalla foresta felice in questo soleggiato giorno se solo tutto potesse rimanere in questo modo e conandra cantando da lontano ah sole glorioso manda i tuoi raggi su di noi ma aspetta chi è che osservo chi osa tagliare il legno dal mio dominio lui imparerà la follia dei suoi modi e conandra tira un colpo sulla testa di reginald che canta ah non mi colpire folle foresta folle cosa della foresta lui alza la sua ascia in modo difensivo reginald vede conandra per la prima volta e canta ho detto folle foresta folle cosa della foresta perché tu sei bellissima come un come un'ala di farfalla conandra coi suoi occhi che incontrano reginald canta ti ho colpito sulla testa perché io vorrei piuttosto togliermi la vita piuttosto loro si abbracciano escono dalla scena le foreste delle creatura cantano na 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 la 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 eccetera eccetera e questa è la fine del primo atto eh già a quanto pare si andiamocene dalla libreria dalla biblioteca la porta è a suo posto salviamo bene adesso cominciamo a ripulire quest'area non dovrebbe volerci troppo troppo tempo cominciamo da qua che è vuoto ops eh questo vaso non lo stavo dimenticando questo c'è una bella borsa hmm sto iniziando a vedere cose meglio prendere qualche resta ok dovrebbe esserci una guardia qui da qualche parte credo tra l'altro che stia arrivando c'è una guardia che che fa la ronda e controlla queste questa parte della galleria ok ok forse sono andato si si sono andato troppo veloce ok 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 Anche queste guardie ci hanno Quasi Intravisto Ma non visto Bene Bene Facciamo andare via la guardia Almeno riusciamo a muoverci Un po' più agilmente Qua non c'è nulla E qua ci sono degli occhiali Abbandonati Dei binocoli più che degli occhiali E qua non c'è Assolutamente nulla Ora salviamo Ah lo sapevo Mi devo nascondere Ora devo fare tutto il giro di questo piano Per poter Arrivare dal lato opposto E riuscire a prendere Un pickpocket Ok Aia Bene qua siamo Riparati Credo Credo Anche Alcuni Ai Alcuni Aspettiamo chi entrì E quattro Mi Non c'è il corredoio. E' quello che voglio sapere, quando mi fanno i miei figli. Sì? Cosa? Non c'è ora. dobbiamo essere abbastanza tranquillo praticamente devo raggiungere quell'arciere che ha una pozione che ovviamente devo recuperare eh dannazione bene bene fin qua tutto bene via ahia 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 Qua dovrei essere al buio, ma mi sa che questo mi becca, forse se sono fortunato, eh non sono fortunato. Vediamo un pochino, se mi metto qua. Cosa dice l'amico? Lui non mi vede. E lui? Bene, non mi vede neanche lui. Aspettiamo che se ne vada perché sta cominciando a infastidirmi, è questo qua. Ma se mi becca, quanto ci fate? Lo sapevo. Però se io mi metto di qua... non dovrebbe beccare. Tutto per prendere quella dannata pozione. Ok. Dannazione. Ok. Ora lo metto qua. E da qua non dovrei avere troppi problemi a riuscire a prendere quella pozione, eh. bene. E la facciamo trovare subito. Vediamo se nel caso... troppo forte. Ok. Ora raggiungiamo, riguadagniamo la maledettissima biblioteca. non c'è nessuno da questo lato, per fortuna. Questo va di là. Salviamo. saliamo anche davanti a questa porta, che sparisce misteriosamente. Ecco appunto. Ok. Bene. bene. Ora... fatto questo... non resta... non resta... che... recuperare finalmente... il... il talismano dell'acqua. non resta... non che... il flauto... del... il flauto d'argento di Cribs. Per farlo... passerò dalla... galleria. Vediamo un pochino a dove si trova... bello lontano, non mi piace a me. Aspettiamo che passi l'arciera e poi passiamo noi. Ok. Ok. Seguiamo. ok. Fantastico. Ovviamente... quindi... dobbiamo sempre fare... il minimo errorino. Ok. Vedi qua... senza tanti problemi. anzi... di qua... quella portola la devo chiudere se non mi ricordo male. Ok. ok. E ora è giunto il momento di... recuperare...